Normalmente c'era il gaspolo, ma di fatto nessuno fa più di trent'anni, ma normalmente dopo trent'anni si esce, cioè qualunque, se l'azienda che abbia compiuto, se l'ammatica è presente in carcere, dopo trent'anni esci. E lui ci stava detto, trenta cinque anni, e quindi insomma, io un po' perché stato in Colombia e un mondo conosciuto libero, ero sempre incuriosito, da questo film di cui lui voleva parlare pochissimo, insomma. E però Post era sempre presente, poi vabbè, a cambiare l'appulatica che ci fu poi alla disastrosa stagione delle colpe in carcere, lui per mare non è che si chierasse in pietro. Anche se poi, insomma, gli toccava subire anche, come dire, dei sottlusi morali dai fanatici delle pregate rosse, sono tutti stalinisti che prendevano e avevano la vita in tasca, e lui era un individuo cosciente, con una sua, appunto, forte coscienza politica, e non stava neanche ai dettagli di questi brigatisti che poi la maggior parte cominciava a pettirsi, e alla fine erano, come dire, hanno dimostrato che, molti di loro quanto viene, hanno dimostrato che poi tutta questa condizione non ce l'avevano, lui era sempre rimasto timidosamente incoherente con se stesso e si è fatto la vita in carina. Grazie.